Il progetto è un progetto che partisse veramente dalla volontà di chi tutti i giorni vive questo parquetto e credo che con i grandi sforzi da parte dell'Associazione della Geometria Vizzardi che con me ha incontrato più volte le varie realtà abbiamo portato a compimento un progetto che è un progetto del quartiere, che nasce nel quartiere e che ha voluto seguire anche le richieste del quartiere, abbiamo avuto non facili a volte discussioni per trovare chiaramente gli accordi anche che potessero andare bene alle famiglie, alla scuola, ovviamente le varie attività che prima ricordavo la Geometria Vizzardi ma credo veramente che sia un parco partecipato a 360 gradi, un parco sicuramente importante per il quartiere ma diventerà anche un punto di riferimento per tutta la zona perché come diceva anche l'assessore prima l'obiettivo è proprio quello, cioè questo è l'unico vero parco del quartiere Cami, l'unico vero polmone di questa zona della città e grazie a tutte le realtà che qui intorno gravitano dalla scuola, alle associazioni musicali, al centro diurno, al cinema Eden, alla circospezione finché ci sarà ovviamente e a tutte le altre realtà che vivono qua dentro di questo parco diventerà un punto di riferimento a me, così lo spieghiamo, chiaramente non soltanto per i bambini e quindi per le famiglie ma anche per gli anziani, visto che abbiamo il centro diurno, per i giovani, per le persone che fruireanno dal cinema Eden, insomma diventerà un parco a 360 gradi per tutti.